funziona anche il pad audio faccio questo non male aggiungi l'obiettivo prima di scaldare il tempo ok ah vedi a 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 niente a 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 chiappolo ma cos'è che è un uccidio il tempo ah il tempo lì ah il tempo lì a a a a a a a a a b a a Vieni è purato guardate 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 niente è scade il tempo è difficile è scade il tempo è scade guardate 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.